Oggi 11 settembre, 12esimo anniversario degli attentati di New York, la provincia di Milano ha voluto ricordare questa data con una seduta straordinaria del Consiglio. Era presente anche il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, sentiamo un stralcio del suo intervento. Ho accolto questo invito con grande piacere, ho deciso di partecipare personalmente, proprio per rinnovare, ancora una volta e pubblicamente, un sentimento forte, sincero di amicizia che mi lega agli Stati Uniti e al popolo americano. Il titolo scelto ci chiede di volgere lo sguardo al futuro, senza dimenticare il passato e quello che il 12 settembre 9-11 ha rappresentato per gli Stati Uniti, per l'Europa e per il mondo intero, per quella che definiamo civiltà nel suo congresso. Ricordo, infatti, ricorderemo la prima pagina del Corriere della Sera, il giorno dopo, attacco all'America e alla civiltà. A essere colpiti siamo stati tutti noi, senza distinzione, americani, europei, arabi, israeliani, africani, orientali, tutti coloro che intendono la vita come un luogo, un territorio di incontro, di scambio reciproco, di continuo miglioramento di noi stessi, anche e soprattutto grazie all'apporto degli altri, seppur diversi da noi. E' quindi doveroso esprimere, anche a distanza di 12 anni, la vicinanza, e lo faccio per la regione Lombardia, a un grande paese, libero e democratico, e al popolo americano, per quell'attacco barbaro e incivile, scagliato dai terroristi di Al-Qaeda sul loro stesso territorio. Ci sono eventi che segnano la nostra vita, spesso sono legati a fatti personali, ma a volte l'attualità e la storia fanno eruzione nelle vite di ciascuno di noi, mettendoci al centro del flusso degli eventi. Tutti noi ricordiamo, è già stato detto, quello che stavamo facendo quel giorno, quelle ore, quella mattina, quando siamo stati informati di quanto stava succedendo in New York. E molti di noi hanno visto in diretta il secondo aereo dirottato dai terroristi, un'immagine di una violenza spaventosa che ha cambiato per sempre la nostra vita, almeno per me. Tutti abbiamo vissuto l'11 settembre e elaborato il lutto e il dolore per quella tragedia in modo molto intimo e personale, così come abbiamo elaborato valutazioni diverse sul post-11 settembre, la guerra al terrorismo e i suoi strasci, purtroppo ancora di permanente attualità. Ho ricoperto l'incarico di Ministro dell'Interno in anni in cui la minaccia del terrorismo di matrice islamica post-11 settembre era ancora alta e con i colleghi europei mi sono trovato spesso a dover valutare situazioni e assumere decisioni per fronteggiare al meglio questa minaccia. Credo che una considerazione di carattere generale si possa fare ricordando l'11 settembre. Il fanatismo politico e religioso non semina pace ma semina discordia e dolore. Non dobbiamo mai abbassare la guardia per difendere quello che è bene e più prezioso che abbiamo, da cui discende il nostro stile di vita, il benessere che abbiamo a fatica conquistato insieme dal secondo dopo guerra in poi, soprattutto grazie alla cooperazione tra gli Stati Uniti e l'Europa e cioè la libertà. La memoria dell'11 settembre deve rimanere viva anche per questo, per unire il mondo nella battaglia per la libertà contro ogni estremismo. Trovo significativo in conclusione che il memoriale dell'11 settembre New York sia composto da due enorme piscine realizzate sul terreno dove una volta sorgeranno le torri gemelle. L'acqua è un simbolo di vita per eccellenza, un flusso che non arresta mai il suo corso. Mi piace pensare all'amicizia tra noi e il popolo americano proprio come un corso d'acqua, qualcosa di semplice ma grandioso nella sua semplicità, che non si fermerà mai perché costituisce l'essenza stessa di quella libertà senza la quale non può esserci la vita. Grazie.